Io mi ero messo in testa che io volevo tornare a casa, perché non era mica giusto che io facessi quella fine. Io mangiare, ho mangiato male come gli altri, in realtà anche il dottor adesso continua a dirmi i duan t'hanno fatto bene, che t'hanno fatto bene, che t'hanno fatto il sangue, va poco. Al minuto mi dici i duan in Germania, t'hanno fatto sopra via. Io non facevo niente, però non mi sono mai preoccupato, non ho mai avuto il pensiero di non venire a casa. Io ci ho molato gli ultimi due o tre mesi, gli ultimi due o tre mesi non ricordavo più della famiglia, cioè era un pensiero che mi era andato via. Con lei non lo capivo neanch'io, cioè mi era stufato, mi ero stancato. Però anche nella mia stanchezza, forse che posso sopravvivere, perché è un bel momento. Il mangiare era così per tutti. Io poi, ma la storia del peso, quant'è senza gente che dice 38 kg, 40 kg, io non mi sono mai pesato. Ah, so ste 50 kg, 50 kg, mi so che era meglio. Però sono stato con la mia ammagressa, non ti crede. Io ho visto la gente, anche morì, perché si trovavano male, piangevano. Guarda, è che la panca gira, chiamavano i rifiù, sai, lì non è un problema diverso. Nel nostro campo lì, gli americani, in passepolo, sono rimaste le guardie di loro, però noi tendevano dove venire. Allora noi avevamo due ragazzi, un certo Belloni si chiamava, di Ravenna che fanno i massaggi. Allora, a cominciare a cattare dei vitelli, ma non mi era male. Poi i massaggi, poi li mettevano, sai che loro hanno quei barili lì, della birra, li mettevano dentro, al frasco, dopo, qui in giù in te, no, no, avrì la canna frasca, via via. E loro tutte le notte andavano a cattarquello, e dopo ci eravamo messi a porto col mangiare.